ok continuiamo adesso con il nostro esercizio dopo aver impostato tutto e definito alcuni possibili root pensato come potevano essere alcune possibili root proviamo a implementarne alcune di alcune di queste ovviamente una volta che abbiamo implementato la prima get la seconda sarà molto molto simile così come una get su corsi che dovrà restituire l'insieme dei corsi sarà molto simile a una get sugli esami quello che cambierà sarà la query sequel che andremo a fare ma quindi proviamo a implementarne un paio proviamo a implementare get courses get course singolo e magari post exam gli altri teniamoli ma ve li fornisco magari già già realizzati fatemi cancellare un po di cose così è un pochino più ordinato allora partiamo dalla root per i corsi quindi questi sono il nostro rest api queste sono le nostre rest api e le risorse abbiamo detto essere il corso il corso e l'esame quindi implementiamo la prima get courses vorremmo quindi qui scrivere courses localhost 2.3000 courses e invece di ricevere l'errore non posso prendere courses quello che che vorrei è vedere invece appunto questo un array come questo di corsi quindi col codice del corso col nome e i crediti dato che è una get iniziamo a scrivere app.get app.get se voi ricordate dall'esempio prende possiamo copiarlo di nuovo prende come primo parametro il percorso il path che nel nostro caso è courses poi ha una richiesta e una risposta e una arrow function che definisce che cosa succede in quella richiesta e risposta quindi una callback che definisce che cosa succede quando abbiamo un corso quando questa url viene raggiunta cosa dobbiamo fare in questo caso beh dobbiamo sicuramente leggere dal database tutti i corsi e poi fornire la risposta in json quindi partiamo da leggere dal database abbiamo visto nella video lezione che leggere dal database vuol dire aprire una connessione col database creare una query SQL e poi utilizzare i metodi di lettura di query del database come all, get, each e quant'altro prima di leggere e preparare la query dobbiamo ovviamente creare una connessione col database allora la connessione col database possiamo crearla per esempio qui possiamo creare una variabile const db che è uguale a new SQLite.database maiuscolo e questo metodo, questo costruttore di collegamento cosa vuole? vuole un nome di file, il nome del file col percorso su disco in questo caso è direttamente nella cartella e un eventuale callback per l'errore allora il nostro database si chiama exams.db e in caso di errore potremmo come abbiamo fatto per quando lanciamo il server quindi qui sotto potremmo dire console.log anzi console.error che è l'equivalente del console.log ma appunto per stampare l'errore e poi il tipo di errore quindi questo crea una connessione col database e lancia questo errore in caso di problemi a questo punto abbiamo creato la connessione col database in questo oggetto db possiamo scrivere la query const sql cosa sarà la nostra query? la nostra query abbiamo bisogno di tutti i corsi quindi select asterisco from courses from course che è la nostra tabella la nostra tabella si chiamava course abbiamo costruito la query possiamo utilizzare il metodo di visto che abbiamo bisogno di tutti i corsi possiamo utilizzare il metodo all per eseguire la query con eventuali parametri in questo caso non ci sono e in questa callback finiranno sia gli errori sia le righe del risultato tutte le righe del risultato quindi db.all db.all vuole la query che abbiamo in questa variabile sql e poi la callback con gli errori vedete dis se servisse gli errori e le righe ne passiamo l'errore e le righe chiamiamolo lo stesso modo in una callback e quindi adesso qui andiamo a scrivere cosa succede quando questa query viene eseguita e dà errore oppure restituisce un risultato notate che questo metodo questa è una callback e quindi questo metodo o meglio questa è una callback e questo metodo dato che è una callback di questo tipo è asincrono pertanto se noi qui scriviamo qualcosa scrivessimo qualcosa qui subito dopo qualunque cosa console.log test per esempio questa riga dato che questo metodo è asincrono cosa fa javascript giusto per ricordarci crea questa variabile chiama questo metodo stampa test e probabilmente dopo che ha stampato test viene eseguito questa callback quindi se vogliamo far sì di avere dei comportamenti di avere delle azioni che avvengono per esempio dopo aver effettivamente letto dal database non possiamo scrivere dopo il metodo dball ma dobbiamo scrivere all'interno del metodo dball quindi nel nostro caso per esempio la risposta json non sarà dopo il metodo dball ma sarà l'ultima cosa all'interno del metodo dball quindi ripetiamo abbiamo la query chiamiamo dball eseguiamo questa query prendiamo il risultato in termini di righe del risultato o in termini di errore prima di tutto ipotizziamo cosa capita se c'è un errore per esempio se c'è un errore potremmo semplicemente lanciare questo errore così com'è quale può essere questo errore? beh per esempio non esiste la tabella courses c'è un errore nella query quant'altro quindi se c'è un errore lanciamo l'errore se non c'è l'errore vuol dire che in row in questa variabile c'è quello che ci serve il risultato della query quindi proviamo a stampare per ora rows e vediamo cosa c'è al suo interno quindi salviamo eseguiamo localhost courses qui vedete non succede niente qui nel terminale invece possiamo vedere che questo rows è in effetti molto simile a quello che ci aspettavamo c'è un array e dentro l'array c'è codice nome credit for credit poi codice nome credit e via così che in realtà è quello che ci serve vedete nel response body al di là di questo course iniziale che è una pratica ma essenzialmente è quello che ci serve quindi quello che potremmo fare è semplicemente creare una risposta dire che questa risposta è un JSON e questa risposta ha al suo interno rows quindi salviamo questo togliamo questo console log e vediamo cosa succede vedete vedete che in effetti la risposta arriva ed è un JSON Chrome ha questo plugin per visualizzare il JSON in questo modo formattato e vedete che in effetti ci sono tutti i nostri corsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corsi esattamente come nel database ora cosa succede se noi volessimo per esempio non dobbiamo in questo caso direi ma se noi volessimo manipolare row come possiamo manipolare questo row? beh potremmo per esempio ripeto in questo caso è inutile ma potremmo farlo lo stesso potremmo definire una variabile che si chiama courses e manipolare a questo punto i risultati per esempio rows.map che prende una singola riga e cosa facciamo a ogni singola riga di questo array? allora questo come abbiamo visto è un array quindi map ve lo ricordo prende ogni singola elemento di questo array in questo caso la riga e permette di fare delle operazioni su quell'array cosa potremmo fare? facciamo delle operazioni che sono idempotenti che non cambiano il risultato di questo di questo di questo json cosa potremmo fare? beh potremmo per esempio dire che code che code è uguale a row.code manca una parentesi quindi creiamo in questo row che il row viene mappato su un oggetto uguale sullo stesso oggetto che però invece di avere code ha scritto code nel nostro caso invece di avere name a description giusto per cambiare un pochino row.name e anzi lasciamo name qui perché è più bello e qui invece di avere cfu potremmo scrivere credits quindi row.cfu e quindi questo stiamo dicendo l'oggetto per ogni riga costruiamo un nuovo oggetto che è esattamente lo stesso oggetto di prima potevamo anche scriverlo così per esempio quindi solo prendendo togliendo gli altri due campi che magari non potevano servire oppure rinominando qualcosa e a quel punto invece dirò fornire courses allora salviamo e vediamo se vedete effettivamente non abbiamo più cfu abbiamo scritto credits un altro modo di farlo un altro esempio diciamo così di manipolazione poteva essere sempre const courses uguale rows punto map e come vi dicevo prima row con row punto code cosa fa questa riga? questa riga per ogni riga per ogni elemento di questo array crea un nuovo array in cui al posto di quell'elemento mette solo la sua proprietà code infatti se noi salviamo e aggiorniamo vedete c'è solo il codice in un array quindi non ricreiamo il mapping chiave valore ma semplicemente prendiamo il valore e lo mettiamo per ogni item di questa lista in courses ora questo è un altro esempio non è quello che ovviamente vogliamo quindi possiamo ottenere questo che ricordiamo è inutile perché stiamo dicendo è parzialmente inutile anzi perché diciamo che invece di cfu prendiamo credits quindi se noi salviamo e riaggiorniamo in effetti abbiamo il nostro array come prima perfetto ora proviamo a rifare la stessa cosa su courses ma per prendere il singolo corso così abbiamo un parametro come prima app.get perché anche questa è una get ci serve il percorso che è sempre slash courses ci serve il parametro che è due punti code nel nostro caso che abbiamo deciso noi di chiamare code potevate anche chiamarlo course code è un parametro che scegliete voi come nome che poi utilizzate nel resto della funzione quindi code con i due punti davanti obbligatoriamente e come prima request e response una arrow function come callback asincrona nuovamente esattamente come prima e che cosa deve fare questo beh come prima questo deve fare una const SQL che dica select asterisco from course where code è uguale a questo due punti code abbiamo visto che possiamo utilizzare il punto di domanda e utilizzare questo come parametro qual è questo parametro? questo parametro è quello che arriva da due punti code dalla url che scriviamo qui per esempio vorremmo scrivere così localhost 2000 3000 slash courses slash mf 0158 che è il corso di basi dati e sistemi informativi che in questo momento dà errore perché non abbiamo ancora finito non abbiamo ancora fatto niente e non abbiamo ancora salvato in realtà e vedete già ci dà 404 che è il nostro errore e possiamo dobbiamo recuperare questi due punti code e metterli in una variabile possiamo chiamarlo course code come recuperiamo questo? se voi ricordate dalle slide lo recuperiamo dalla richiesta dai parametri della richiesta nei parametri della richiesta ci sarà un code quindi accediamo alla richiesta accediamo ai parametri della richiesta in questo caso questo e prendiamo il parametro code che appunto è l'unico parametro che abbiamo che abbiamo definito qui chiamandolo qui code a questo punto abbiamo la query e possiamo eseguire la query questa volta non usiamo un db all perché non ci interessa prendere tutti i risultati noi immaginiamo che in questo caso ci sia un corso con quel codice dato che il codice è quello univoco e quindi possiamo scrivere db.get come prima db.get ha come primo parametro la query come secondo parametro un array di eventuali parametri da passare alla query in ordine in questo caso non abbiamo uno solo e abbiamo chiamato course code e poi error e row esattamente come prima qui cosa dobbiamo fare qui dobbiamo fare forse qualcosina in più come prima se errore lanciamo l'errore se invece il corso esiste quindi se questo row è pieno e ha qualcosa al suo interno quindi se c'è un errore lanciamo l'errore se row esiste cosa facciamo rispondiamo res punto json di che cosa di code due punti row punto code esattamente come prima name rispondiamo con un oggetto che ha come chiave diciamo code e come valore il codice effettivo name row punto name e esattamente come prima credits due punti row punto cfu di nuovo se noi non volessimo rinominare niente o modificare niente ma restituire la riga esattamente com'è basterebbe fare res punto json aperta parentesi row altrimenti cioè se il corso non esiste di selected il corso selezionato non esiste cosa abbiamo detto di fare di lanciare un 404 e soprattutto di scrivere il corso non esiste e quindi potrebbe essere res punto json aperta parentesi aperta graffa come prima costriamo un oggetto con error due punti valore il il corso non esiste potremmo anche ok per ora lasciamolo così salviamo e verifichiamo cosa succede vedete che se noi chiediamo facciamo un po' di zoom mf 058 abbiamo giustamente le informazioni del corso se noi chiediamo mf 015 vedete che ci torna un json esattamente come prima con scritto il corso non esiste ovviamente questo potremmo rifinirlo potremmo per esempio andare a impostare l'header http corrispondente al 404 ad esempio come possiamo fare potremmo dire res punto status 404 punto json se noi salviamo e facciamo refresh qui abbiamo sempre come questo errore il corso non esiste e qui vedete abbiamo come risposta non 200 su mf 015 ma 404 che appunto not found in quanto il corso non è stato trovato non esiste questo è un po' come capitava con le promise una concatenazione all'oggetto res chiamiamo il metodo status poi concateniamo json perché l'oggetto res ci permette di fare questa operazione implementiamo ora giusto per vedere qualcosa di diverso una post allora la post è esattamente come prima avrà sempre un app punto post invece di un app punto get con un percorso con un percorso che è sempre slash exams in questo caso stiamo parlando di stiamo cercando di manipolare gli esami e avrà sempre una request e una response ovviamente qui abbiamo visto nei video tra il path e questo request e response potrebbero esserci eventuali validazioni da fare che sarebbe bene fare magari nell'esempio completo che vi caricherò online nell'esempio finale che vi caricherò online introdurrò qualche validazione così da da farvi da mostrarvi un esempio quale validazione possono esserci beh per esempio che il voto questo score non possa essere maggiore di 30 e minore di 18 se no non è registrato l'esame per esempio ok che il codice del corso non sia più lungo di 6 7 caratteri se i codici del corso in questo nell'università non sono più lunghi di così quindi se uno manda un codice del corso 5 e come score 49 ovviamente queste sarebbero due cose da validare ma immaginiamo in questo momento che siano corretti e quindi facciamo come per la post creiamo un creiamo un esame come per la get quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo come prima fare una query SQL in cui stavolta andremo a dire insert into exam che era la nostra tabella che l'altra tabella questa tabella exam che cosa come si chiamano course code date score id quindi course underscore code virgola date virgola score l'id no perché la chiave primaria viene auto incrementata cosa values di punto di domanda course code date punto di domanda cioè convertiamo a date il valore della data a date tipo di database date e ancora un punto di domanda uno per course code uno per date e uno per score questo punto punto di domanda chiudiamo la parentesi e abbiamo fatto la nostra query questi valori course code date e score verranno presi dal corpo della richiesta a cui dobbiamo accedere come accediamo al corpo della richiesta al corpo della richiesta potremmo qui come vi ho fatto prima creare una variabile per esempio code che è request punto body punto code perché l'abbiamo chiamato qui così poi un altro const punto score uguale request punto body punto score e const date uguale request punto body punto date a questo punto abbiamo i tre valori e possiamo eseguire la nostra query db.all per prendere tutto db.run per prendere punto get per prenderne uno solo per fare una query singola db.run per eseguire cose tipo la insert che non sono query db.run vedete ha sempre la query come prima cosa e come seconda cosa i parametri quali sono questi parametri? code score e date questi tre parametri di prima nell'ordine in cui appaiono nella query code date e score quindi code date e score e un'eventuale funzione di errore quindi r facciamo anche qui una arrow function e diciamo if r come prima tro r punto e virgola a questo punto se non abbiamo avuto errori dobbiamo vuol dire che l'inserimento è data buona fine e dobbiamo rispondere qualcosa perché questa è una chiamata http abbiamo detto che la risposta sarà vuota sarà un 200k se tutto funziona quindi avremo semplicemente un res punto end quindi termina questa porzione questa parte e definisce una risposta finisce conclude invia e conclude una risposta vuota in questo caso una risposta http ovviamente noi non possiamo provare una post dal browser ma ci sono tool per esempio postman che ci permette che è da scaricare è un'applicazione da scaricare fatemene cercare uno online così da provare test rest api prendiamo il primo no test rest api online questo qui può andare bene a http due punti slash slash localhost porta 3000 è una post non abbiamo autorizzazione il contenuto è json e il nostro contenuto sarà questa cosa qui per esempio magari inventiamoci un codice un corso prendiamo un corso esistente per esempio metodologie mf 01 62 mf 01 62 30 data diciamo maggio 15 e facciamo send ha bisogno di un'estensione va bene installiamo l'estensione ok rifacciamo http due punti barra barra localhost due punti 3000 è una post il linguaggio non è che ci interessi il contenuto è json e questo abbiamo detto sempre essere 01 62 e immaginiamo di aver preso 30 sempre a il 15 maggio che è questo venerdì facciamo send e vedete che ci risponde 404 e il messaggio è errore cannot post andiamo a vedere l'header della risposta che non è molto utile e l'header della richiesta è questa application json allora l'autorizzazione non c'è ok quindi c'è qualcosa che non va qua allora che cosa non va qua beh sicuramente noi abbiamo mandato un application json un corpo della richiesta con application json ma non abbiamo detto da nessuna parte e se ricordate dalle video lezioni avremmo dovuto non abbiamo detto da nessuna parte che questo body è di tipo application json quindi express non sa che è questa application json quindi dobbiamo dire a express che tutti i body che riceve dalle dalle richieste esterne sono di tipo application json come facciamo usiamo un middleware che è a disposizione app use express punto json quindi questo è un altro middleware che prende ogni richiesta e dice ok ogni richiesta che arriva il corpo di ogni richiesta che arriva deve essere di tipo json quindi riproviamo e magari però facciamo una posta all'indirizzo giusto quindi su exams vedete che la risposta è ok e se noi andiamo a vedere nel nostro database nella tabella esami vedete che è comparso mf162 il 15 maggio superato con 30 con id crescente a 4 quindi funziona e vi faccio vedere visto che non era quello il problema cosa succede se non mettiamo questo riga che dice ad express di considerare tutto tutte le richieste i corpi delle richieste come un json e fatemi aggiungere facciamo lo stesso corso e tanto dovremo piantarci prima facciamo send vedete viene lanciata una lunga eccezione perché non si può leggere la proprietà code di undefined questo perché ovviamente lui non sa se quello è un json o quant'altro riceve un json e non sa gestirlo e quindi lancia un errore con questo middleware abilitato il problema come abbiamo visto non capita non si risolve non capita ok questo chiude l'esempio diciamo di utilizzo di express di utilizzo del database nel prossimo video che sarà molto più breve vi faccio giusto vedere una versione 2 dell'esempio in cui abbiamo magari la validazione e in cui non abbiamo tutti le connessioni al database dentro un unico file quindi non abbiamo tutto dentro un unico file server.javascript ma abbiamo diversi moduli ognuno dei quali fa quello che deve fare quindi per esempio tutta la parte di database potrebbe essere in un file diverso che si preoccupa di gestire il database e quindi non è tutto mischiato in un unico file database generazione di json logica dell'applicazione eccetera ma separiamo bene le cose su file su moduli nel nostro caso diversi e quindi Grazie.